Musica Wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi andiamo avanti a parlare delle sfide della settimana numero 5 In collaborazione sempre ragazzi con i nostri amici del gruppo Telegram Fortnite Italy Andate a dare un'occhiata per tutte le news ragazzi sono anche i miei video ci sono La sfida più interessante della settimana è quella di ballare in cima a diverse torri E la prima fase ragazzi è balla in cima a una torre idrica Beh ragazzi la torre idrica di cui si parla è quella che tutti conosciamo a corso commercio Esattamente proprio qua davanti quindi ci atterrate ci ballate sopra E lo stage numero 1 è fatto Fase numero 2 invece dobbiamo danzare sopra una torre dei ranger ragazzi Forse non la conoscete ma ci stiamo arrivando in questo momento Non è molto lontano da corso commercio si va verso rifugio raga Nell'unica torre che c'è vicino a rifugio ritirato Dove c'è qua sopra un anello con un go kart? Non sappiamo bene il perché insomma ragazzi la torre è questa Ci ballate sopra fase numero 2 completata Dobbiamo invece raggiungere rampe ghiacciate per l'ultima torre quindi fase numero 3 ragazzi della sfida E completamento ci chiedono di ballare sopra una torre del controllo del traffico aereo E l'unica che è disponibile nella mappa ragazzi è ovviamente questa qui ragazzi Quella un pochettino più avanti rispetto ai bunker Diciamo che ragazzi ci mettiamo sopra ce la balliamo di prepotenza Completiamo la sfida Vi ricordo ragazzi un bel pollicione in su Iscrivetevi in tantissimi al canale Noi ci vediamo presto Ciao 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 Ciao